Finalmente, davanti all'ultima rendicontazione di bilancio che ha visto un'evasione stimata di 90 milioni di euro di portoghesi che non pagano la metro, che scavalcano, che si inventano di tutto accampando mille scuse, e finalmente, fanalino di coda, si è deciso di mettere, di introdurre ai tornelli, molti dei quali inaugurati l'anno scorso come questi, nuovissimi, anche il Bancomat o la carta di credito, cosa che esiste in tutte le capitali del mondo, esiste peraltro anche da un paio d'anni a Milano. E' così, diciamo, una delle ultime scuse per non pagare il biglietto viene rimosso e è anche un servizio di velocizzazione che viene offerto perché ovviamente le carte di credito sono contactless e quindi basta poggiare e passare. E questa è Roma, diciamo, vintage, Roma che non riesce a essere mai moderna e quando lo fa sembra chissà cosa sia accaduto.